Caltacqua, rete idrica senza depurazione, operazione a Cheronte della Guardia di Finanza e dei Carabinieri del Noe, fra Caltanissetta, Palermo e Roma. Ha preso il via a Palermo il corso di informazione e sensibilizzazione rivolto al personale della Polizia Municipale che tratterà di benessere animale e randaggismo. Successo sopra le aspettative per la sesta edizione del Festival Corale di Musica Sacra Mariana che si è svolto a Bagheria. Bentrovati alla seconda edizione di Media News di martedì 15 maggio. Caltacqua, rete idrica senza depurazione, operazione a Cheronte della Guardia di Finanza e dei Carabinieri del Noe, fra Caltanissetta, Palermo e Roma. 20 avvisi di garanzia per inquinamento ambientale, coinvolti anche dirigenti regionali e funzionari dell'Ato. Vediamo il servizio. Notificati 20 avvisi di garanzia, dirigenti e funzionari del Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti della Regione Siciliana, funzionari a Ato CL6, amministratori e manager dell'azienda Caltacqua S.P.A., società che si occupa della gestione della rete idrica e della distribuzione degli impianti di depurazione del reflui fognari in provincia di Caltanissetta. Operazione a Cheronte, oggi della Guardia di Finanza e dei Carabinieri del Noe, tra Caltanissetta, Palermo e Roma. Le indagini hanno dimostrato gravi violazioni da parte dei responsabili dell'azienda, molti dei quali cittadini spagnoli, anche inseriti nell'organigramma della società FCC Aqualia, impresa controllante dell'A.S.P.A. Nissena, con sede legale in Spagna. Con la connivenza di dirigenti della Regione, la società Nissena aveva omesso la manutenzione degli impianti di depurazione del reflui fognari pur in presenza di obblighi specifici imposti alla normativa, eppur avendo a disposizione fondi pubblici dedicati proprio all'attività di manutenzione. Di fatto ciò ha causato una mancata depurazione delle acque fognarie, che presentavano quindi una carica batterica superiore alla norma, causando un pericolo per l'incolumità pubblica. In molti casi gli impianti di depurazione risultavano in stato di abbandono a tal punto che non erano più idonei a garantire una operatività seppur minima. Tutto questo è stato agevolato da varie omissioni dei responsabili regionali e del lato preposti al controllo. I reati contestati dalla Procura di Caltanissetta sono di inquinamento ambientale, varie contravvenzioni collegate alla diffusione nell'ambiente di reflui non depurati e frode nelle pubbliche forniture. Ulteriori reati ambientali sono stati inoltre contestati ai responsabili dell'azienda per avere di fatto continuato a gestire impianti di depurazione non più funzionanti e privi di autorizzazione allo scarico, in quanto quest'ultima era scaduta e non poteva, tra l'altro, essere rilasciata nonostante lo stato di abbandono degli impianti. Infine, ai dirigenti pubblici, è stato contestato il rifiuto di atti d'ufficio a causa delle loro condotte che hanno permesso ai responsabili della Caltacqua di perpetrare le violazioni. Gli stessi reati ambientali sono stati contestati dunque anche ai funzionari pubblici. I finanziari di Caltanissetta hanno inoltre avviato un'attività di verifica fiscale riscontrando una base imponibile sottratta a tassazione di oltre 37,7 milioni di euro. Ha preso il Via a Palermo il corso di informazione e sensibilizzazione rivolto al personale della Polizia Municipale, che tratterà di benessere animale e randaggismo, un percorso che l'amministrazione comunale ha intrapreso in collaborazione con la Lega Antivisezione e che si occuperà di adozioni e recupero di cani con criticità caratteriali. Oggi è la prima giornata operativa che parte da una giornata di formazione dedicata al personale della Polizia Municipale che ha presentato istanze e che vuole dedicarsi alla tematica animalista. Come vedete sono abbastanza presenti gli operatori della Polizia Municipale che sentono il tema degli animali e che vogliono dedicarsi a questa attività. Si parla di 101 operatori di Polizia Municipale impiegati nel progetto, ma praticamente e operativamente cosa faranno? Allora, sono coloro in questa fase che vogliono partecipare alla formazione. Non tutti e 101 saranno utilizzati perché le forze della Polizia Municipale sono impegnate nel complesso ad assicurare anche altri servizi alla cittadinanza. Si farà un'adeguata selezione. Chiaramente i migliori saranno utilizzati per garantire il benessere degli animali, ma soprattutto per garantire il rispetto della convivenza uomo-animale come previsto sia dalla norma, dalla riforma nazionale, ma anche dalle leggi regionali per garantire alla cittadinanza una normale convivenza tra uomo e animale. Quali problemi si sono evidenziati con i cani del canile municipale di Palermo e soprattutto come intendete risolverli? Diverse sono le criticità che sono state ravvisate nella gestione dei cani randaggi. siano essi detenuti in canile o liberi sul territorio. Lavoreremo in sinergia con il Comune, con l'Asp, con gli ZS, con l'Ordine dei Medici Veterinari e con le associazioni di volontariato per sanare queste criticità e per favorire il virtuoso circolo delle adozioni. Quali sono le criticità? Le prime criticità sono sicuramente strutturali. E' necessario che il canile, quale luogo di transito, deputato al recupero psicofisico del cane randaggio in vista dell'inserimento in famiglia, sia una struttura accogliente. Cercheremo di sanare con l'aiuto e il supporto del Comune di Palermo che opererà in prima linea queste criticità per garantire comunque una sistemazione accogliente a questi cani. Assistenza medico-veterinaria, aree verdi per giocare e sgambare e socializzare con i volontari e gli operatori. Siamo abituati a garantire l'adozione di cani che presentano alterazioni comportamentali di rilievo grazie al supporto del nostro educatore cinofilo e di altri professionisti che ne garantiscono il recupero comportamentale. Cominceremo ovviamente da quelli che sono pronti per l'inserimento in famiglia grazie al supporto delle associazioni di volontariato che operano in loco sedi locali LAV dislocate su tutto il territorio nazionale soci e sostenitori LAV persone pronte ad aprire il proprio cuore e la propria famiglia ai cani del Comune di Palermo. La relazione sul primo trimestre della RAP la partecipata del Comune di Palermo rappresenta un quadro negativo il documento mette a confronto infatti le entrate e le uscite previste per i primi tre mesi del 2018 con quelle effettivamente realizzate con un rosso che si aggira sui 4 milioni di euro ancora una volta all'attacco il consigliere comunale Fabrizio Ferrandelli ascoltiamolo. Purtroppo noi non capiamo se la strategia di questo sindaco sia quella di fare fallire questa azienda così come ha fatto Conamia e fra l'altro anche la cronaca della Corte dei Conti di questi giorni sta gettando delle ombre pesanti su quelli che sono stati i comportamenti dell'amministrazione. Sono dei numeri messi in fila e questa volta vengono fuori non da me vengono fuori dall'azienda il presidente del collegio di RAP che è anche l'amministratore visto che il sindaco da settembre del 2017 non nomina il CDA e il presidente di questa azienda quindi è un'azienda che noi possiamo sicuramente dire sotto scopa e quindi fuori controllo perché non ha neanche la governance. Il presidente dell'ordine sindacale nonché il responsabile del dipartimento finanziario dice esattamente quello che noi abbiamo detto in occasione della votazione della delibera di variazione tari voluta fortemente dall'Aggiunta e votata dalla sua maggioranza che ha allevato i 5 milioni di euro necessari alla RAP per andare avanti. Dall'altra parte il trattamento del TMB che è fuori dal contratto di servizio quindi è ad onere diretto dell'azienda. Dall'altro lato è stato avviato lo step 2 della raccolta differenziata spostando risorse che impiegheranno diversi milioni di euro a carica dell'azienda e su questo non c'è copertura. Sono stati trasferiti più di 12 impiegati che della manutenzione strada che era un settore che andava a premialità a remunerazione sono stati dirottati ad altri servizi questa azienda può chiudere verosimilmente per quest'anno nel 2018 con un meno 10 milioni di euro. A chi giova tutto questo? E quindi noi su questo vogliamo non soltanto essere rassicurati ma annunciamo battaglia in Consiglio Comunale perché era vero quanto noi sostenevamo e oggi è stato messo nero su bianco da organismi tecnici, non politici. Sono persone che in maniera fredda mettono in conseguenza i numeri e questi numeri ci dicono che probabilmente questa azienda può andare verso il fallimento che perderemo i livelli occupazionali e che il servizio continuerà a non essere garantito così come non è garantito adeguatamente in queste ore. La comunità scolastica della seconda direzione didattica Landolina di Misilmei ripresenta la quarta edizione della manifestazione Legalità e buone pratiche un antitodo contro le mafie una tre giorni 17, 18 e 19 maggio ricca di emozioni di cultura e legalità un vero e proprio confronto tra le nuove generazioni e chi questa Italia oggi ha il compito di guidare verso nuovi ambiziosi traguardi. 17, 18, 19 maggio 2018 consacriamo la quarta edizione della nostra manifestazione ormai come dice lei ha diventato un brand di questo territorio Legalità e buone pratiche un antitodo contro le mafie che quest'anno ha voluto fortemente dedicare questa manifestazione a un momento significativo per tutta l'Italia. Stiamo parlando ovviamente di un momento dedicato al settantesimo anniversario della Costituzione italiana. Sappiamo perfettamente cosa è costato ai nostri padri costituenti ma soprattutto a chi nel tempo a partire dalla metà ottocento ha lottato e combattuto per questa Italia unita unica e sola. E allora oggi vogliamo dare un grande valore un grande tributo a tutti coloro che hanno sempre lottato e che hanno condiviso questi valori che anche noi profondamente rispettiamo. Insieme a tutti questi ricordi ovviamente non potevamo non ricordare un momento molto significativo che ci lega a tanti uomini tante donne tanti servitori dello Stato che in questi anni hanno lottato per tenere ben saldo le radici di questa Italia e quindi lo hanno fatto contro tutte quelle mafie quel malaffare e quei prepotenti che volevano sovvertire la democrazia nel nostro Paese e allora ci sono tanti servitori giovanissimi poliziotti carabinieri guardie di finanza uomini di scorta che sono morti abbiamo tanti laboratori lei ha ricordato quello dei dei nostri pupi siciliani nati nel Settecento che erano il contraltare al diciamo a tutti coloro che si potevano permettere il teatro si potevano permettere i concerti nelle sale particolari allora il popolo la gente comune a cui mi onoro di appartenere come tutti noi italiani hanno costituito questo teatro popolare nella nostra Palermo e quindi era un momento di condivisione ancora oggi riecheggia questo momento importante di vitalità di questa grande tradizione siciliana e diciamo che fattore importantissimo è stato che l'UNESCO nei primi anni del 2000 lo ha dichiarato bene immateriale e quindi questo ha fatto sì che si rinvigorisse ancora questa grande tradizione siciliana devo dire che questo devo ringraziare anche lei non dimentichiamo che lei è stato il fautore di questo connubio di questo bel ponte che è stato costruito con le scuole dell'Agrigentino del Trapanese Santa Ninfa Ribera Sciacca Corleone Marineo e quindi abbiamo costruito questa rete lenticolare che ci ha consentito di portare avanti questo messaggio alternativo che soprattutto fa riscoprire ai nostri ragazzi il valore aggiunto di quello che giornalmente noi portiamo avanti il valore della cittadinanza attiva diritti e doveri solo così si combatte la mafia solo così si combatte il malaffare abbiamo solo il compito di educare i nostri ragazzi verso questi valori e soprattutto lo si fa grazie ai nostri diciamo esempi di vita che noi dobbiamo dare in maniera trasparente limpida ed esemplare ai nostri giovani successo sopra le aspettative per la sesta edizione del festival corale di musica sacra mariana che si è svolto a Bagheria alla chiesa Maria Santissima Immacolata grazie a tutti La musica unisca è stato il motto per tutti i 500 cantori provenienti da tutta la Sicilia e selezionati tra nove corali che hanno affollato la città di Bageria partecipando al sesto festival nazionale corale di musica sacra mariana Il festival ideato dal maestro Salvatore Di Blasi e organizzato dal coro la dote dominum dell'associazione culturale Bequadro di Bageria patrocinato dall'amministrazione comunale ha ottenuto un successo sopra le aspettative Congratulazioni per la riuscita dell'evento sono giunti dal sindaco Patrizio Cinque dal parroco della chiesa Maria Santissima Immacolata che ha ospitato il festival Don Giovanni Basile e dal vescovo emerito di Monreale Monsignor Salvatore Di Cristina Il festival ha avuto inizio con la lettura di un messaggio augurale indirizzato a tutti i partecipanti di Monsignor Valentino Miserazio, direttore di coro e compositore spagnolo direttore della cappella musicale liberiana canonico della patriarcale basilica di Santa Maria Maggiore prelato d'onore di sua santità e proto notario apostolico hanno partecipato a questa edizione i cori Laudate Dominum, Pueri e Polifonico di Bageria, De Cantu di Ribera, Internazionale della Pace di Palermo Cungliubilo di Monreale, Cristo Re di Belpasso, Perfetta Letizia di Gela Mater Dei di Ispica, Giuseppe De Cicco di Carlentini, Città di Sciacca ben 19 composizioni di musica sacra mariana con autori di spessore musicale come Elgar, Liberto, Lotti, Bruckner, De Marzi, Frisina, Guno, Piazzolla, Gomez dopo la premiazione per tutti i cori il festival si è concluso con un gioioso canto alleluatico mariano i 500 cantori hanno intonato a voce unisona l'inno all'Immacolata di Bageria composto per il sessantesimo dell'incoronazione da Monsignor Giuseppe Liberto maestro emerito della cappella musicale pontificia detta Sistina il festival è inserito nel cartellone della stagione concertistica Città di Bageria riconosciuto patrimonio culturale europeo 2018 il 18 maggio al Teatro Massimo di Palermo le nozze di Figaro di Mozart con la regia di Chiara Muti sul podio il direttore musicale del Teatro Massimo Gabriele Ferro repliche fino al 26 maggio le nozze di Figaro tornano a Palermo dopo ben 18 anni il nuovo allestimento è stato realizzato al Teatro Massimo in coproduzione con il Teatro San Carlo di Napoli e il Teatro Petruzzelli di Bari regia di Chiara Muti, scene di Ezio Antonelli, costumi di Alessandro Lai luci curate da Vincent Longhemare in scena Simone Alberghini nel ruolo del conte d'Almaviva Mariangela Sicilia in quello della contessa d'Almaviva mentre la coppia Susanna Figaro è interpretata da Maria Mudriac e Alessandro Luongo orchestra e coro del Teatro Massimo maestro del coro Piero Monti maestro dal fortepiano Giacomo Gati le nozze di Figaro è la prima opera frutto della collaborazione tra Mozart e il librettista Lorenzo da Ponte cui seguiranno poi Don Giovanni e così fan tutte rappresentata per la prima volta nel 1786 per andare in scena dovette sfidare i mille intrighi della corte asburgica e la censura l'opera conobbe successo a Vienna e a Praga grazie anche al favore dell'imperatore Giuseppe II nella lettura di Chiara Muti due elementi fisici che dominano la scena sono la corte rappresentata dalle scale simbolo dei cambiamenti sociali è la natura che piano piano riesce a riconquistare lo spazio così come tutta l'opera si configura come un dialogo tra desiderio e amore presenti in scena fin da principio e declinati in tutte le forme possibili le nozze di Figaro disegnano l'uomo per quello che è con vizi e virtù la miseria della natura umana e allo stesso tempo la grandezza che l'uomo ha nel fare fronte al proprio destino e nel perdonarsi nonostante tutto biglietti da 125 e 15 euro la biglietteria resterà aperta dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 18 e nei giorni di spettacolo a partire da un'ora prima e fino a mezz'ora dopo l'inizio a Palermo tante le iniziative per i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso alla chiesa di Via Pietra Tagliata come vuole qualsiasi consuetudine religiosa la parrocchia del Santissimo Crocifisso di Via Pietra Tagliata a Palermo dà inizio ai festeggiamenti in omaggio al patrono della chiesa e si inizia con delle attività culturali davvero interessanti come quelle spletate dalle unità cinofile del Corpo dei Vigili del Fuoco ci spieghi esattamente di cosa si tratta e perché sono importanti oggi queste unità operative? Allora questa disciplina ovviamente all'interno del Corpo Nazionale è nata nel periodo bellico poi successivamente si è persa un pochettino adesso dal 2005 abbiamo ripreso questa attività la nostra attività principale all'interno del Corpo è quella di ricerca persona quindi i cani vengono impiegati solo ed esclusivamente per la ricerca persona quindi in superficie e in macerie dopo gli ultimi eventi che sono successi quindi l'Aquila in primis quindi nel 2009 successivamente gli altri terremoti come l'ultimo Amatrice e Rigopiano abbiamo ricoperto un ruolo molto importante cioè l'intervento dei cani è stato risolutivo in questi casi Ad animare questa sera la parrocchia del Santissimo Crocifisso di Via Pietra Tagliata lo spettacolo di Gianni Nanfa uno spettacolo del tutto emozionante cosa presenta questa sera i fedeli di questa parrocchia? Proprio perché si tratta di una festa religiosa non sarà uno spettacolo sarà una chiacchierata sulle abitudini, gli usi e i costumi di noi siciliani e quindi scherzeremo e tra il sera il faceto però diremo anche una serie di cose importanti sulla nostra isola che magari ignoriamo, non sappiamo e ne approfittiamo proprio per l'evento religioso perché attraverso queste feste si possono comprendere di più una serie di valori che ahimè in parte scompaiono in parte per fortuna ancora se siamo qui vuol dire che continuano a esistere Portare la croce in giro per strada tra la gente, che emozioni ha suscitato? È una grandissima emozione soprattutto per un cristiano essere testimone proprio della croce di Cristo è il messaggio più competente e più giusto che un cristiano possa fare nell'ambito del proprio luogo e della propria circoscrizione Lei poc'anzi ha detto che portare la croce Gesù in mezzo alla gente non è una passeggiata, perché? Sì, mi sono voluto esprimere così anche per questo modo molto simpatico con cui abbiamo seguito Gesù in mezzo alle strade come si fa nei miei ricordi o quel tipo di pregare per le vie in mezzo alla gente, tra i seminaristi eccetera cose sperimentate nel piccolo e invece farlo con centinaia delle persone che serenamente si inoltrano per le vie del quartiere che suscitano questo interesse della gente dicevo, ho visto un papà che si è affacciato con una bimba le ha fatto mandare un bacetto verso Gesù ho visto le persone che ci salutavano dall'alto che cantavano con noi, che gridavano in onore del Santissimo Crocifisso quindi un momento molto bello ma nonostante ciò, nonostante questa forma così soft e simpatica della processione del Santissimo Crocifisso è il valore del Crocifisso che segna la profondità il vero peso di questo mistero è stato presentato nella chiesa di San Domenico il libro Il Novecento a Ciminna attraverso il clero, personaggi e figure scritto da Saverio Lapaglia, insegnante in pensione ascoltiamo le interviste è un contributo importantissimo da consegnare alle future generazioni per evitare che si perdano queste grandi tradizioni culturali di mestieri e di usi di cui Ciminna è molto ricca la ricchezza di questo volume sta nella possibilità da parte di ogni abitante di Ciminna e non solo di rivivere il Novecento nella sua complessità con le varie figure, i vari personaggi dai più umili ai più noti diciamo che a me questa che è stata inizialmente una sola curiosità interesse a poco a poco è diventata quasi una smania di voler cercare, domandare, chiedere notizie continuamente perché più andavo avanti più mi rendevo quante persone quante fatte, quante situazioni erano state dimenticate e siccome a me è nata questa idea quasi spasmodica direi di consegnare alle generazioni future uno spaccato del Novecento che come lo sappiamo è uno dei secoli più introvesti e destrovesti della storia in questo secolo è successo di tutto e di più Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti